E' l'eremo di Santa Rosalia la Quisquina, il sito al primo posto nella top 10 della classifica provvisoria della dodicesima edizione del censimento nazionale I luoghi del cuore del FAI. Seguono al quindicesimo posto il sito Area Marina di Torre di Gaffe e al diciottesimo Viale dei Tigli e Villa Comunale di Santo Stefano Quisquina. Il Fondo per l'Ambiente Italiano chiama tutti a partecipare dal 17 settembre al 10 aprile 2025 alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano che da vent'anni raccoglie le segnalazioni dei luoghi più amati dagli italiani e che perciò meritano un futuro. Attraverso il censimento il FAI contribuisce a valorizzare i luoghi cari ai cittadini innescando una partecipazione che si estende dalle comunità alle istituzioni locali e nazionali in un concorso virtuoso di energie e di risorse che unisce e rinsalda la società civile. Il censimento è solo una parte del programma, i luoghi del cuore e anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati. I vincitori infatti ottengono premi economici, quest'anno fino a 70.000 euro al primo classificato per realizzare interventi di restauro, valorizzazione e anche luoghi che non hanno vinto ma hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti possono aspirare al contributo presentando dopo il censimento un progetto all'apposito bando. Un esempio il restauro dell'altaria maggiore della chiesa del Santissimo Crocifisso di Siculiana tra i 23 vincitori del bando e i luoghi del cuore del FAI 2023. Per il capo delegazione FAI e Grigento un'opportunità importante per rilanciare un territorio è la partecipazione al censimento nazionale. Bastano 2.500 voti per poi concorrere con un progetto e finanziamenti. La scala dei turchi in passato ha ottenuto 20.000 euro. Quest'anno si è proceduto ad un rinnovato sistema di partecipazione online semplice e rapido. Dal 17 settembre fino al 10 aprile 2025 si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Si possono votare tutti i luoghi del cuore che si desiderano senza limite numerico. Se il luogo del cuore non è già presente sul sito si può inserirlo in qualsiasi momento. Incrementati inoltre i premi economici per i vincitori, i contributi messi a disposizione per il sostegno e i progetti salgono a 600.000 euro in totale, ovvero 200.000 euro in più rispetto alle precedenti edizioni. Nello specifico il primo classificato si aggiudica a 70.000 euro, il secondo 60.000 e il terzo 50.000 con 20.000 euro in più per ognuno dei vincitori. Attualmente dunque l'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina è al primo posto e il sindaco Francesco Cacciatore invita a continuare a sostenere il progetto.